Oddio, oh il meleone Schiata, schiata, schiata Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Tony Gamer, ci siete ragazzi Siamo qui su Code Ok, sono partito, non so, in questo bunker, all'interno di questo bunker c'è un portone dove due dei miei compagni che io non sapevo che ci fosse questa porta dove apri il portone e all'interno di questa stanza trovi 5-6 casse di color arancione e ci siamo fatti quasi sui 200-300 mila dollari, subito, subito e poi l'unico modo per fare soldi su Cold Warzone nella modalità malloppo è essere astuti, strategici, muoversi molto bene mi raccomando, bisogna anche essere molto pazienti allora, non ho fatto altro che muovermi, aiutare i compagni e cercare, cercare soldi dovresti essere molto veloce a saltare dalle finestre, a correre, oppure esplorare nuovi posti e prendere dei soldi la cosa più bella è che il team si divide sempre certe volte un compagno vada un'altra parte e l'altro invece segue un'altra strada ad esempio io vado per la mia strada e incontro un team un team che ha un mucchio di soldi, tanto si vede sulla mappa che c'è il sacchetto dei soldi però se c'è la corona io sto indietro perché è un team, team completo non posso farcela io con due tre di loro però, se vedo quel tizio che ha quella sacca di soldi che è segnata sulla mappa quel simbolo rosso con il dollaro allora, ok, e che faccio? mi avvicino a loro, piano piano, mi avvicino, silenziosamente e a questo punto lo vedo vedo lui sul tetto e l'ho ucciso e mi prendo i soldi a questo punto l'unico modo per fare soldi su un malloppo è seguire i propri compagni oppure se sei abbastanza bravo puoi dividerti puoi scegliere tu se andare con i compagni oppure per la tua strada io faccio sempre così ma certe volte riesco a fare il primo, secondo, terzo posto però sto sempre nella top 10, top 5 della modalità malloppo e quindi, per fare soldi se vuoi, devi essere più veloce dei nemici dei tuoi avversari aprire quel portone che si trova nel bunker ma non esiste uno solo ce ne sono parecchi di bunker, mi raccomando devi anche sapere dove si trovano quindi portarti con te un amico basta che dovete essere in due per aprire questa porta e entrare all'interno non troverete solo soldi ma troverete anche armi che vi permetteranno di giocare alla grande armi perfette per uccidere tutti se sei bravo con la mira, ok fai come vuoi basta che li ucciti e ti prendi i soldi questo per me è veramente un bel trucchetto quindi a questo punto non devo fare altro che muovermi e spostarmi e ricevere e prendere più soldi ma se al scadere del tempo vedo che mancano circa 3-4 minuti devi per forza riunire tutta la squadra se no perdi tutti i tuoi soldi mi raccomando depositate anche i soldi se no è un problema perché se no verrai segnalato sulla mappa ed è un grosso guaio mi raccomando ok direi che i trucchetti i trucchetti sono questi trucchetti semplici senza imbrogli dovete essere molto astuti strategici molto pazienti e riceverete sicuramente le vostre ricompense quindi se ti è piaciuto questo video se ti è stato utile lascia like se ti interessa questo canale iscriviti tanto io porto gameplay e tech anche tutorial su come giocare oppure tutorial su come scaricare giochi o porto anche effetti sonore se per caso hai bisogno se hai bisogno di usare gli effetti sonori non so per fare un cortometraggio oppure un effetto cinematografico nei tuoi giochi oppure se tu registri e mi raccomando ti manca anche la campanellina perché se riesco a trovare qualcos'altro di bello io lo porto grazie tante per questa visione ciao a tutti grazie